La Semi, speciale festival internazionale del film di Roma. Siamo con Paolo Virzi al Festival Internazionale del Film di Roma e siamo negli spazi da Roma-Lazio Film Commission per il Cine Campus e Virzi ha appena tenuto una lezione. Come è andata? Non so non sapere dire se sia andata bene o male, dovete dirmelo voi. Io ho cercato di mettere a disposizione di questi ragazzi del Cine Campus quella che è stata un pochino la mia esperienza, il mio approccio con la formazione che è stato, diciamo, scolastico anche, nel senso che per me è stata fondamentale la scuola che ha rappresentato per me il centro sperimentale di cinematografia e come approccio culturale, certa passione per la narrazione, per la letteratura e un certo sguardo sugli altri come punto di partenza per fare il cinema. Tuoi progetti futuri? So che stai scrivendo un film. Parlarti dei miei progetti futuri? Allora, guarda, penso che farò un film ispirato a un raccontino di un mio giovane amico, Livornese, Simone Lenzi, che è il cantante di Virginiana Miller, che ha scritto una cosa che mi stringe il cuore, la storia di una giovane coppia che cerca di avere un figlio e che, insomma, è ispirato un po' alla sua vita. Siccome mi interessa ficcare il naso nelle vite degli altri ed è la spinta più forte che mi porta a fare questo mestiere. Così, anche questa volta mi piace andare a mettere il naso in questa storia di questa giovane coppia. Il titolo del film si sa? Il titolo del film non te lo dico. Quando si girerà si sa? Quando si girerà si girerà a febbraio. Grazie.